Un'anteprima ad applausi che accresce l'attesa per l'evento del 26 dicembre prossimo alla chiesa di Madonna del Ponte a Gubbio. Ha avuto grande successo sabato scorso presso la prestigiosa Basilica di Santa Croce in Gerusalemma-Roma, il concerto che ha visto coinvolte le realtà cittadine, l'ensemble Floriano Canal e l'orchestra da camera di Gubbio. Due complessi già collaudati in precedenti e profigue collaborazioni, sempre alla chiesa di Madonna del Ponte in occasione dell'inaugurazione, che si sono fusi con i cori Entropie Armoniche di Roma e i cori Città di Bastia e Coro Aurora. Il numerosissimo pubblico romano ha potuto apprezzare la particolare esecuzione del concerto grosso Opera 6, numero 8 di Arcangelo Corelli, composto per la notte di Natale, a cui è seguita la suggestiva Sunrise Mass del giovanissimo compositore norvegese Ola Ghieilo. Il concerto si è chiuso con l'esecuzione per soli, coro ed orchestra di uno dei canti più cari noti della tradizione natalizia, ad este Fideles, nell'elaborazione del maestro Piero Caraba, compositore di fama internazionale alle cui sapienti mani era affidata alla direzione del numeroso ensemble. Il grande successo ottenuto a Roma è stato poi bissato domenica nella affollatissima chiesa di San Michele Arcangelo di Bastia Umbra, altissimi livelli dell'esecuzione, sia dei cori curati dai maestri Arnaldo Ridolfi e Catiuscia Marionni, l'ensemble Floriano Canal e Claudia Gili per le entropie armoniche, Piero Caraba per il coro Città di Bastia e Stefania Piccardi per il coro Aurora, che dell'orchestra da Camera di Gubbio guidata da Katia Ghigi sono stati affiancati. Ora l'attesa dunque per lunedì prossimo alle 18 per il concerto di Natale, con questa nutrita e qualificata ensemble che tornerà alla chiesa madre del Salvatore di Madonna del Ponte a Gubbio.